Ragazzi siamo giunti alla fine 4.464 punti Oggi andremo per il diamante epocale Quindi preparatevi chiamati amici e parenti perché adesso ne vedremo di tutti i colori C'è la gamma, si 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 una scale gialle, lo vedo Bella Una è rapigliata, finestra grande e B C'è finestra con grande Una è sui scale gialle raga, maverick Si si l'ho visto, mi lo io, mi lo visto Due, due scale gialle Sono un po' nei casini mi sa io Sono in due scale gialle, termite e maverick L'opportuna l'avete barricato dietro Fatto finestrone Bella raga, buona Buona Ottimo, da termite Teniamo easy, sono solo io dentro Tommy rientra con mio Aiutalo Tommy, no faccio aiutare Sono già da finestrone Entrata, termite Termite e VIP, termite e VIP, è qua dietro Arrivo, arrivo, faccio il giro e arrivo Grande C'è uno fuori VIP Aspetta che ho le camere disabilitate Oh ma sono già dentro sti maledetti Maronna Mamma mia Mamma mia Avanti così Camere posizionate Vista prima che ha fatto Rossi due Dai non rovinarci La squadra elite Daniele Daniele Mal maverick Ecco come rovinare La squadra gold Elite power Qualcuno ha una claymore da mettere sotto? No 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 Jack Io ho il fuse raga Fizzo le orecchie Non aprire la botola Non ho detto 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 Che mira Vai plantare B Vai plantare tutto dritto Il solito posticino Planto Dov'è? È sotto? Pulse c4? No bella A posto Che smirata Tutti due kill Ragazzi Tutti due Squadra dei due Guardate Uno in corridoio Uno sta venendo da qui Ve lo spot Ve lo spot Ve lo spot è qua Vadoio vadoio Totò È entrati in acquario Fammi giocare a golf lì Ultima partita disponibile Quelle altre che ho fatto Le ho giocate veramente In maniera horripilus Oh regà Non ci ho busciato Da dietro Stavo mettendo via Da dietro Che culo Bar bar Qua Spot 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 fisso Dai per Fire B È nell'angolino lì 9 punti Non è la partita decisiva Almeno quello Possiamo giocarne una meglio 9 punti Il gioco mi vuole bene Tunnel 1 Ha rotto il filo Non so chi sia però Ok abbiamo B c'è entrato B c'è entrato Da te Bella Glatz e archivi L'oppunzecchio È andato via È ritornato tunnel mi sa O subo Bravi Che fortuna No ma veramente Io non l'avevo manco sentito A me è orribile questo aggiornamento Che quando barricchi vedi già legno sotto E non capisci se è perché è barricato Perché hanno rotto la botola È una cosa che odio a morte Boh sopra Sopra c'è vicino Bomba è libera Potremmo plantare in un attimo Tutta libera Tutta libera C'è pulso C'è pulso dietro la bomba Una mano che c'è un altro su di sopra Sono in bomba Arriva a frontale Ma non era libera raga Avete detto bomba libera Se mi copriete io planto raga Planta 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 veloce Vai a plantare No avete stanno per me raga Clicca quadrato Clicca quadrato Sul canello Non so dove stanno Dietro di Heger Ragazzi mi hai passato dall'aprio Sinistra B Sinistra Bella B Dove è? È dietro in bomba grande È in bomba grande No Poi io giro È qua l'ultimo L'ultimo è il dock Era dall'altra parte Era dall'altra parte Per guardare il lion Per guardare il lion L'ho fatta Per vedere se c'era il cap Atrio Atrio Pusha Chi cavolo è questa ascia? Entra subito da scale Scale Pusha diretta Sì sì ma non mi è morta Ma non è morta Ma non muore Cazzo dici? Jack no Eh aveva tutta la vita Cazzo dici Eh sopra E sopra E sopra Ma guarda Sai un po' che gli ho tolto? Controllate camera dietro Che non ci pushino Da Da buttino Perito Vito Te lo lascio? Va come vuoi Lascio pure di morire Cuno è entrato in server ragazzi Perché cerchi le cose? Bella B1 è bomba B1 è bomba Dai cavolo Il maestro qui Questa partita vuol dire che è B la carica No Che fastidio Eh A che lo dici? Cioè questo Mi challengea col maestro Non ha capito niente 4-5 8-4 Doppio positivo A me va bene Vediamo sta tattica qui Se vedete Sbrilluccicare qua raga È perché c'è un vento assurdo Che fa riflesso sulla finestra E batte sul green screen Quindi Non preoccupate Che è soltanto il sole Che Che illumina Dimmenso il mio green screen Che cavolo di tattica è questa raga Qua Sono qua Ah ok Jack metti il cosa alla finestra A posto La squadra La squadra da attacco Ha trovato una bomba Non mancano rinforzo Sono lampinati dove Dove non Arrivato Il fatto Qua c'è Se legge Lampinato Uno in quella stanza Blitz Blitz Raga Blitz è in corridoio Piùci qua Sta rompendo qua Uno sta rompendo qua È il blitz Non vai casterly Non vai casterly Non è a terra Ti ho fatta male Jack il castello nello stanzino Non andava Vieni Jack Vieni tutto Ti butto con il domone Con il resolo Ma facciamo diverso C'è col blitz C'è col blitz C'è un bordello raga Sono appesi Prova a uscirli Se no Oh da me dietro Da me dietro Scali raga Ah vabbè Ma ha sciolto Ha 20 di vita Thatcher dietro C'è col blitz Io c'è col blitz Ce l'hai? Bravo È proprio in sera 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 Bella Buona Mi ha sciolto TermlyToucher Cavolo Ce l'hai fatta via Le granata 7-8 Maronna che partita Un po' così Ho fatto dritto l'ultimo round No Uno seno Bi censura Per favore Siamo Siamo Partita sudata Giocata un po' così Ci siamo rifatti poi alla fine Diamante Diamante Ragazzi Per non far vedere le morte Diamante Contro anche i diamanti Platini 1 Dai Platini 3 13 punti Diamante Qua Atomico Raga 4.510 Si però è orribile Cioè arrivi diamante Non ti mette Un emblema Grosso come la scorsa season Cioè Diamante Però Diamante Cavolo Guarda qua Che potenza Anche in questa season Sono arrivato diamante Grazie a un team Come ben sapete Ve l'ho già ripetuto Anche in tutte le altre season In cui sono arrivato diamante Ci si arriva perché Si è bravi Si riesce a fare delle partite fatte bene Delle altre partite fai schifo Ma se hai la squadra che Funziona Va bene Anche se lanci soltanto un toucher Per distruggere un cavolo di bandite Permetti alla squadra poi di brecciare Te muori Il tuo aiuto è stato fondamentale Per portarti a casa la partita Quindi Le kill e tutto il resto Si è importante Qui te la puoi tirare Di qua Di là Ma la cosa importante È il risultato Che ti porti a casa Questo spero che sia Entrato nella testa Di chiunque Che si una un team E si impegna E continua a giocare E soprattutto Riesce ad amalgamarsi Un po' con le persone Va bene Io negli ultimi giorni Ho trovato dei sub Bravi Su Twitch Che hanno giocato con me Li ho portati con me Abbiamo fatto delle partitozze Fatte bene Abbiamo chiamato altre persone Che giocavano bene Ci siamo amalgamati assieme E via dicendo Il rango Non importa più di tanto Perché con me In squadra C'erano delle persone Non diamante Però combattevano Contro persone di diamante E hanno fatto Dei clash mostruosi Quindi raga Easy proprio Anche sta season diamante Vedremo la prossima season Quei marocchini Cosa faranno Quali gadget avranno Quali trappole Cosa Si inventeranno Qua raga Da Bistar è tutto E noi ci vediamo Nel prossimo video Di ogni sera In live su Twitch Ciao 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 Grazie per la visione!